Buongiorno, sono Stella Bosoli di Trading Library, volevo parlarvi di due cose, la prima innanzitutto è l'uscita della nostra collana Trading, le guide pratiche con il nuovo Gap e Trendline che segue analisi candlestick e i forex. Le guide pratiche sono proprio guide per chi inizia, ma sono anche dei manuali operativi molto smart, per chi già conosce l'analisi tecnica e ha bisogno di avere qualcosa di molto pratico, sempre pronto sulla scrivania. Ma la cosa più importante è che questa settimana abbiamo fatto questa promozione con questo bellissimo libro di Jeff Cooper, il Trading Hit and Run, questo libro è importantissimo, specialmente nelle prime pagine. Il Trading Hit and Run viene dato in omaggio a chi acquista per un valore minimo di 99 euro ed è andata particolarmente bene, avete apprezzato molto questo libro. Allora, in redazione mi hanno detto, no Stella, però devi fare qualcos'altro, devi fare queste promozioni nuove che si chiamano giveaway, ma presto, facciamolo, siamo 3D Library e quindi questa settimana la promozione continua, visto che è stata una vostra richiesta, ma soprattutto faremo questo giveaway con questo fantastico libro di Linda Bradford-Rushky e Connors dal titolo Street Smart, che molti di voi conosceranno. Allora, ci sono a disposizione due libri e verrà fatta poi una diretta, credo giovedì, adesso la stiamo decidendo in redazione, ma faremo in diretta una estrazione su tutti gli ordini che saranno arrivati della promozione di Hit and Run, per cui a partire da venerdì e due di voi avranno in omaggio, oltre al libro di Jeff Cooper, anche il libro di Linda Bradford-Rushky, Street Smart. Beh, mi pare che questo giveaway sia particolarmente bello, quindi vi ringrazio e vi saluto. Torno di là perché c'è una lezione sulle opzioni col libro di George Fontanil e non me la posso perdere. Grazie a tutti!